Expo Roma la merita perché è una capitale globale che ha una dimensione storica nota e conosciuta in tutto il mondo, quindi credo che sia importante che Roma possa avere questa occasione. Per quanto mi riguarda in tutti i consensi internazionali e in tutti gli incontri che ho fatto, non ultimo al consesso dei ministri della cultura dell'Unione Europea, io ho chiesto espressamente di poter parlare sulla candidatura di Roma, di esporne i contenuti, l'ho fatto e il mio intervento è stato anche accolto abbastanza bene dai partner europei.